Com'è iniziata questa avventura? Tutto bene, è iniziata, l'importante è che inizia. Vogliamo dire la novità di quest'anno? La novità è il cicchetto al cioccolato. Un attimo che prendiamo il cicchetto al cioccolato. Potete notare l'analisa che si accinge. Grazie. Andiamo da analisa? Aspetta eh. Andiamo dalla signorina analisa che ci mostra il cicchetto al cioccolato. Buonasera a tutti. Com'è fatto questo cicchetto al cioccolato analisa? La base alcolica può essere di vari gusti. Rum, tequila, panna, baileys, quello che volete. Poi con panna, scaglie di cioccolato. Ok, noi ci vediamo più tardi.